buongiorno e bentornati al bar della fotografia oggi siamo qua all'aperto una bella giornata finalmente cominciano arrivare le belle giornate oggi sarà una puntata breve oggi voglio parlare del canale oggi voglio parlare del canale perché il canale ha appena compiuto tre mesi si avete capito giusto solo tre mesi è un infante va bene però i numeri sono incoraggianti e voglio parlarvi del canale per appunto fare solamente due chiacchiere intanto avrete capito quali sono le linee che teniamo in questo canale per cui abbiamo sicuramente la parte dell'analogico che a me e a Sivio in particolare preme sappiamo benissimo che è una nicchia che è difficile però è una cosa che ci interessa e vedo che interessa anche ad altre persone poi abbiamo la parte che riguarda i fotografi e anche questa sta riscuotendo un buon successo le persone interessate ai fotografi a scoprirli sono diverse e devo dire che è proprio una bella esperienza perché incontrare persone e discutere di fotografia come stiamo facendo è una cosa che mi dà soddisfazione le uscite fotografiche sono un attimo ferme però adesso confidando in questo bel tempo contiamo di riprendere a breve abbiamo in programma un gran bel giro a giugno a giugno raccoglieremo diverse interviste con fotografi vecchi amici e nuovi nuovi amici sicuramente per cui seguiteci che avremo delle puntate interessanti con altri fotografi altri generi ed in mezzo avete visto che ogni tanto spot escono gli unboxing sono senza sigla ma c'è un motivo però sono quelle che stanno anche sostenendo il canale come numeri sicuramente per cui sono una parte importante anche questa anche se abbiamo ricevuto delle critiche su su questo ma sicuramente gli unboxing interessano anche queste a molte persone anche perché avete visto che diverse persone si sono interessate a all'unboxing che abbiamo fatto di recente su macchine fotografiche analogiche le spy camera le spy camera queste sono hanno riscosso diverso successo e le proveremo ai ragazzi le proveremo tutte quelle che è possibile provare esistendo ancora la pellicola di queste macchine e poi continueremo con la camera oscura questo percorso di avvicinamento al prodotto finito avete già visto finora un'infarinatura di quello che serve stiamo man mano costruendo le puntate per i vari prodotti presto uscirà una puntata sui liquidi di sviluppo che dobbiamo utilizzare sulle carte sulle pellicole che sono attualmente in commercio per cui il processo di avvicinamento ad avere una camera oscura funzionante sta andando avanti e poi avete visto che non abbiamo una sede vera e propria perché perché il bar della fotografia è un luogo virtuale un luogo virtuale per cui è in qualsiasi luogo in nessun luogo contemporaneamente oggi siamo qua in questo splendido parco finalmente primavera e quindi ce la godiamo ma possiamo essere in altri posti tranquillamente non è importante dove giriamo come non è importante lo sfondo bello la luce bella ho capito che stiamo parlando di fotografia quindi mi è stata rivolta una critica ma perché non facciamo uno sfondo più bello sì lo faremo anche non adesso adesso creiamo la sostanza delle cose poi dopo possiamo anche fare le rifiniture e per arrivare a conclusione di questo discorso il nostro non è un lavoro questo noi non lo facciamo di lavoro noi per fortuna abbiamo il nostro lavoro questa è solo pura passione e pertanto ci impieghiamo tante risorse sia in termini di tempo sia in termini proprio di denaro e è importante quindi che il canale non avendo noi un rapporto diretto fisico noi da che cosa capiamo che il canale va bene dai numeri ovviamente e se i numeri crescono capiamo che il canale va bene ma perché i numeri crescono non dobbiamo vedere degli iscritti perché poi con questi iscritti che a voi non costa niente iscrivervi noi riusciremo forse speriamo un giorno a recuperare qualche spesa ed andare avanti ancora con maggior forza e con maggior tenacia di quanto stiamo facendo ora ce la mettiamo comunque noi la tenacia e la forza perché appunto per noi è una passione è importante però che questi numeri crescono per cui io vi rinnovo come sempre l'invito a iscrivervi al canale a condividere con persone che hanno la stessa passione ad attivare la campanella perché così vi arrivano le notifiche di quando escono nuovi video e il canale cresce cresce con voi e soprattutto una cosa che ho visto forse un po' di timidezza da parte vostra nel commentare commentate tranquillamente perché noi siamo qua per rispondere alle domande e così capiamo anche noi quello che vi interessa anzi soprattutto se avete volete dirci che cosa particolarmente vi interessa di quello che stiamo facendo o magari qualche cosa che non stiamo facendo e vi interesserebbe scrivetelo nei commenti sotto questo video e così noi raccogliamo e possiamo portare avanti insieme a voi questa nostra grande passione ed arrivando quindi a conclusione di questo video non mi resta che salutarvi e rimandarvi ai prossimi appuntamenti e dal bar della fotografia vi invio un grande saluto ciao